La prima volta passavamo il giro lungo? Una volta eravamo vendicati, ma perchè eravamo vendicati? Io ero già che vivevo despedienti. Io ero un uomo a dire. Passavamo da te che avevo il bel perro, inoltre impagnavo il cadere, fermavo un pochettino, ti davo da mangiare a dormire, lui avevo un saccassino, ti davo da bevi, da mangiare. Difficilmente ti pagavi. Lui aveva un po' che era il vitto all'occhio. Si sfermava un pochettino. E cosa appunto? Magari impagnavo il cadere? Pagnavo il cadere, potevo anche mettere, se ne ho diventato, potevo mettere i sei parucchi per vigne, oppure... Potevo anche pochi per baicare la stola, per sguire la stola o baicare il bese per un pochettino, dovevo andare a dormire. Lui era una gente sedentaria, dovevo partendo da me, dovevo da noi altri, dovevo dagli altri... Fa un rastro. Fa un rastro. Pagnavo giù da noi altri, passavo lì dalla masseria, dovevo giù... Montavo al mio libro, montavo sulle... Lì era scurso. Si si si. Due cose che passavano il partigiano, quando diceva il partigiano. Certo. E so che papà che appuntava sempre... un coso... una frasca. E io dovevo da me, questa gente, perché eravamo lì, perché lì, perché lì la metteva strada. Ma l'osca. E io dovevo da me, e... non si muove, io mi ce l'ho... Non mi ricordo più se pagaio il suo povero. Devo stare a Dio. Dio che c'è... Cioè vai se... Cioè vai a papà, non ricordo più. Ma a me è mia... Ricordavo un contessa... chi era l'abitudine... ed... quando chi era del feste per lì. Eh. E pronti una frasca... e... e poi mi trovi... un sigillino, una pinta di vino... Eh... Passovo... Perché lì era molto strategico. Eh. E poi dopo un altro punto... gli eravamo addus... dal... del... del... del guerri... diciamo... D'amberma... Eh. Perciò che avessi... che era un punto... da scorsa... che era appuntata. Eh. E li fermavo sempre a beve... e piavo con le feste... la passata... e favo una specie di bicene... Eh. Cioè un bicene... perché... Lì ricordi... se quello che ti ricordi... perché... era fresca... e disattante... Esatto. che quando ti chiamavano... io ero a Raffaele... che ero a sei... e mi dico sempre a beve... sempre a beve... attraverso un biciclo... appunto. Corazzo. che ero a me...